Buonasera, rieccoci qua nel post partita con il nostro presidente, altra partita, altra vittoria. L'unico neo negativo è l'impianto, l'impianto di gioco. Devo purtroppo confermare quanto detto dal nostro nuovo intervistatore che saluto con piacere, siete sempre benvenuti. Sì, purtroppo le luci, prego panoramica, non sono adeguate al tipo di gioco che la squadra propone. Una squadra tecnica e solida nello stesso momento. Una grande vittoria. Stavamo già 4-1, abbiamo sbagliato un paio di gol sanguinossi sulla riga. Direi molto bene, tutti ad alti livelli. Ci fa piacere vincere queste partite con squadre importanti, come il Castiglioncello, che oggi si è dimostrato una grande squadra sul campo. E ha tutti gli onori della ribalta. Quindi bene, bene ragazzi, bene tutti, male le luci. Mi dispiace. Qui la società deve investire. La società deve investire, ci penseremo. Ah, mi sono dimenticato. Oggi non ho visto i primi 15 minuti, mi scuso con tutti, perché purtroppo ero per impegni improcrastinabili, legge Vandanara, in zona Firenze. Ci sono degli sviluppi che poi racconterò in seguito. E non ho visto purtroppo il gol di Finocchiaro, che mi dicono essere stato un gran gol. Lei l'ha visto. Cosa ci può dire? Ah, non l'ha visto. Di male in pencio. Va bene. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi.